buongiorno a tutti e vediamo in questo video tutorial come inserire i titoli generali nella domanda di mobilità ricordiamo sempre che è necessario prima di salvare la domanda la scelta di tipo di posto abbiamo detto per esempio posto normale e dunque indicare il posto normale fare inserire almeno una preferenza per poterla salvare poi con calma poterne inserire altre per esempio abbiamo fatto vedere come inserire la preferenza di una scuola nel comune di reggio calabria che dunque abbiamo selezionato una scuola del comune reggio calabria inserendone una tipo il liceo classico campanella e dunque inserendo questo dopo di che avendo inserite queste sezioni obbligatorie avendo le compilate anche solo parzialmente ma per consentire il salvataggio dei dati a doma della domanda si può compilare la sezione titoli generali nella sezione titoli generali nella casella numero 11 vedete si può rispondere sì oppure no alla domanda per chi ha un concorso ordinario superato per esame titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza per cui chi è titolare alla scuola secondaria di secondo grado dovrà avere almeno un se ne valuta uno solo un solo concorso ordinario riferito al ruolo di appartenenza alla classe di concorso ma al ruolo di appartenenza oppure un ruolo superiore cioè se io sono per esempio titolare alla secondaria di primo grado e ho un concorso alla secondaria di secondo grado questo mi vale per la il trasferimento anche al primo grado ma non il viceversa dunque rispondiamo sì a questa domanda ricordiamo che sono 12 punti nella casella numero 12 si va a inserire il numero di diplomi di specializzazione sono biennali conseguiti nei corsi post laurea valgono cinque punti ogni corso queste caselle che vedete qui sotto dalla 12 fino alla 18 si possono caricare al massimo dieci punti per cui qui per esempio se io dico che ho un corso di specializzazione biennale non vale la specializzazione sul sostegno metto uno poi si mettono la 13 e la 15 per esempio sono riferiti la 15 al numero di diplomi di laurea conseguiti oltre quello il titolo necessario per l'accesso al ruolo dunque se ne mette una nuova laurea se si ha una nuova laurea si mette qui la nuova laurea se non si ha si lascia vuota o si mette zero è la stessa cosa si può lasciare anche vuota la numero 13 invece è nel numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio questo si riferisce a quelle classi di concorso per cui il titolo di accesso e il diploma e allora poi si parla di aggiunta di diplomi universitari poi la numero 14 è riferita ai numero di corsi di perfezzamento master di durata non inferiore ad un anno 1500 ore cfu e 60 cfu appunto 1500 ore e 60 cfu come mio io per esempio ne ho due inserisco inserisco tutte e due poi al numero 16 c'è il dottorato di ricerca chi ce l'ha può rispondere sì alla domanda del dottorato ricerca chi non ce l'ha chiaramente metterà no poi il numero di partecipazione agli esami di stato quasi riferisce agli esami di stato di tre anni in particolar modo che sono il 98 99 1998 1999 il 99 2000 e il 2000 2001 io per esempio ricordo di aver fatto un esame in quel triennio e poi qui ci sono le certificazioni di livello c1 che sono i click così chiamati cli di livello c1 con certificazione oppure senza certificazione dopodiché si può tranquillamente salvare la domanda che rimarrà appunto salvata correttamente speriamo che questo video tutorial sia utile ai fini della compilazione della domanda continuate a seguirci perché manderemo altri video tutorial arrivederci ciao 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 ciao